E' stato presentato nei giorni scorsi il progetto Unicam stravolgiamo i luoghi della cultura i giovani centrano promosso dal polo museale d'Ateneo nell'ambito di un più ampio progetto regionale volto al sostegno all'occupazione giovanile e all'animazione dei contenitori culturali promossa dalla regione Marche. Sì, ancora una volta come sapete a noi sta a cuore il rapporto università-territorio ne stiamo facendo veramente tantissime in questa direzione, questa è un'altra iniziativa che va oltre nel senso che l'università di Camerino ha a cuore naturalmente la formazione dei nostri giovani ma non li vuole lasciare soli una volta che si sono laureati, quindi tutto il discorso dello stage in azienda sul sistema produttivo e del placement dopo è estremamente importante. Quello che ci piace particolarmente tanto di questo progetto è l'oggetto, la cultura, cioè la regione Marche ha stabilito oramai da un po' con vari bandi che la cultura può essere il motore dello sviluppo e attorno alla cultura vanno costruite nuove professionalità. Ecco perché siamo anche all'interno dell'università, luogo dove si fa cultura, dove ci si inserisce in un sistema culturale più ampio dove ci stanno tanti ragazzi, cioè capitale umano formati per eventualmente trovare sbocchi lavorativi in nuove tipologie. Già in fase di progettazione di questo percorso abbiamo pensato di coinvolgere diversi attori del territorio sono coinvolti infatti tre comuni, la comunità montana, la Proloco, il sistema museale della provincia di Macerata e poi diverse associazioni culturali del territorio che quindi forniranno dei servizi nell'ambito di questo progetto e soprattutto, dicevo già in fase di progettazione, abbiamo immaginato che fossero i giovani a fare queste proposte ad altri giovani e quindi abbiamo selezionato cinque ragazzi che usufruiscono di una borsa lavoro finanziata dal progetto stesso. Si tratta di valorizzare i contenitori culturali, questo era l'obiettivo e quindi abbiamo anche qui fatto una selezione perché non era possibile naturalmente prevederli tutti però immaginato di creare dei fili, dei percorsi che legassero l'arte, la cultura, la storia di questi tenitori e naturalmente anche l'ambiente in cui questi territori si trovano perché è un ambiente ancora spesso molto ben conservato ed incontaminato, facendo perno intorno al capofila che è l'Università di Camerino e che è anch'essa una ricchezza diciamo di questo territorio. I ragazzi assegnatari delle borse di lavoro che sono Giovanni Falaschi, Enrica Fantini, Simone Gatto, Matteo Palazzi e Lucrezia Maria Pascucci avranno la possibilità di compiere un'esperienza di occupazione ben qualificata e qualificante che può rappresentare un valore aggiunto per il territorio coinvolto e non solo. E per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.